quattro anni dopo settembre 2017 ottobre 2021 quindi poco dopo siamo ancora qui per una nuova build casa nuova casa nuova per me per te cambiate di cose molti chili in meno molti chili in meno canale nuovo ma siamo ancora qua con la necessità di avere qualcosa di prepotente e come al solito ci pensa albi per oggi assembleremo il pc di michael l'ultima volta abbiamo assemblato il pc con la prima generazione di ryzen che era il 1700x 1700x ok che uso ancora va benissimo è perfetto tutto quanto e oggi passeremo al ryzen 9 5900x quindi un bel salto soprattutto nel gaming è proprio un bel salto non male poi abbiamo una scheda video passiamo da una 1080 ti che comunque è ancora una signora schiena ancora la regge è forte va molto bene ma ovviamente non ha l'rtx quindi non puoi sfruttare il raytracing per chi non dovesse sapere che cos'è il raytracing e il dlss nel corso degli ultimi tre anni ho registrato diversi video li potete trovare tutti quanti sul canale in ogni caso grazie al raytracing possiamo ottenere degli effetti di luci ombre e riflessi in tempo reale che prima erano inimmaginabili grazie al dlss 2.0 in questo caso possiamo riguadagnare gli fps persi o addirittura farne di più renderizzando il gioco a una risoluzione più bassa per poi per poi mandarlo come output finale alla risoluzione voluta che sia 4k o 8k tramite il deep learning se volete maggiori informazioni vi invito a guardare i vecchi video 3080 ti è un upgrade esatto poi abbiamo 32 giga di ram una scheda madre asus x570 tough plus sempre nomi un po' più lunghi alimentatore tough gaming da 750 l'alimentatore è un po' al limite per questa configurazione ma va bene per quanto riguarda questa configurazione michael soprattutto deve ringraziare asus perché è stato tutto fornito non so davvero cosa dire anche perché la chiamata è stata michael ma non è che ti andrebbe comunque di rinnovare avere qualcosa se proprio se proprio devo grazie mille grazie alvi grazie mille ad asus per questa e da invidia ovviamente per la 3080 ti ma non è tutto e adesso arriva anche la sorpresa la sorpresa che sorpresa poi lo invidio perché c'è aspetta guarda guardate ma perché quello è mio credevo che fosse solo la componentisti allora qui ci sono un po' di pacchetti michael hai anche tutto il kit di asus staff per tastiera mouse tappetino e nel caso dovesse interessarvi trovate anche un video sul mio canale credo dell'anno scorso dove ci sono tutte queste periferiche se vi interessa un dettaglio in più non è tutto perché hanno voluto esagerare c'è davvero questo non so neanche che cos'è ok però ringrazio tantissimo asus perché la scatola è molto bella mi piace tanto è colorata giusta quindi possiamo scolare la pasta questo è il mio monitor principale per giocare 360 hertz è una bestia bello io non so che cosa dire se non che voglio assemblare tutto molto velocemente perché non vedo l'ora di portarvelo a casa iniziamo e si liberiamo un po' di spazio perché non ci siamo più cioè io sono nascosto scheda madre scheda madre processore rame ssd qualcosa ho imparato wey madonna che benessere eh sì mamma mia che bella molto molto bellina sì 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 ti piace questa piastrella come tavolo è un po' riflettente è quella su di sopra sì è mica male ho trasformato è bellissima in effetti sì non sapevamo cosa farci abbiamo detto ascolta invece di metterla lì che poi si romperà prende polvere prima o poi si rompe tanto vale processore ok ma usiamo pure la scheda eh infatti lo stavo dicendo questo l'ho imparato da te io certo allora senti non è che deve essere un microsoft pampinato costruisce il suo computer ancora una volta eh stavolta ti faccio fare a te per semplicità però apprezzo il fatto di imparare ogni singola volta quindi negli ultimi anni la linea taf è migliorata tantissimo l'abbiamo visto con a proposito la serie 3000 che nello stesso video di cui parlavo delle periferiche ok quello era un video sponsorizzato taf non è un problema cioè è proprio per quel motivo lì che ne stavo parlando erano veramente costruite bene partiamo dal processore come al solito niente di nuovo tiriamo giù ram e sd yes allora un terabyte di ssd e io intanto apro la ram poi ovviamente il resto di storage lo puoi recuperare anche da da quello vecchio dal tuo vecchio senza problemi io avevo un ibrido addirittura per cui direi che magari è il caso di passare agli ssd negli ultimi due anni hanno aggiornato al pci express 4.0 ok che per le schede video ancora non cambia tantissimo ma per quanto riguarda invece lo storage gli ssd invece lì si perché la velocità tranquillamente io ero rimasto alle 9.50 per farti capire giusto per dirti banchi di ram in questo caso ne abbiamo due due da 16 esatto quindi avendo quattro slot di ram in un futuro nel caso dovesse servirti beh direi che non servirà almeno per adesso però potrei anche prenderle dall'altra configurazione non mi ricordo quanti erano erano quattro da otto erano quattro da otto sì in realtà non sarebbe il massimo però vabbè volendo si potrebbe fare se guardi sulla scheda madre di solito ci sono uno due eccetera vedi che ci sono i due asterischi sì vuol dire che vanno messi prima su quelli ok su alcune schede madri lo segnano con l'asterisco su altre devi leggere il libretto su altre invece è scritto proprio first ok in questo caso dare priorità alle grigie in questo senso esatto prima queste due ok non mi ricordo ancora il senso è questo qua sì deve essere lei no? vai spingi pure senza paura ok quando abbiamo fatto il tuo pc era il primo anno nella mia casa nuova perché mi ero trasferito da relativamente poco ogni volta che fai una casa nuova prendo un pc e lo assembliamo insieme spero non a breve adesso aspettiamo un attimo perché questa l'ho comprata esatto infatti oppure vuol dire che sono diventato veramente ricco a quel punto lo spero per te facciamo una build over 9000 ok però i traslochi non ne voglio più fare perché dobbiamo ancora finire questo madonna non mi ci far pensare oh sta già iniziando a prendere forma e mi piace mi piace molto ok sempre tough è enorme ragazzi adesso direi di sfruttare il tavolo che si abbassa appunto perché l'ho preso praticamente solo per questo perché posso regolarlo in base a quello che mi serve no è troppo per aprirlo era veramente troppo alto adesso così è già più umano ok quindi yes taglia tutto ma tu dopo 4 anni ancora ti diverti a fare configurazioni build e tutto quanto per gli amici che vengono continuamente stupiti non è cambiato niente di quello io da molto più di 4 anni che faccio pc infatti quindi ti dico da 4 ma perché da 4 abbiamo fatto il mio esatto qualche settimana fa l'abbiamo fatto con Dario Moccia l'ho vista ho visto il video guardatevelo se non l'avete visto perché è abbastanza è la prima volta che vedo questo case perché i case tough non ne ho non ne ho mai fatto uno adesso possiamo anche rialzarla così siamo comodi vediamo quanto spazio c'è dietro ok spazio devo dire che non manca quindi il cable management si può fare benissimo e con calma spessissimo il vetro quando montate il computer rimettetelo magari dentro la scatola dei case così succede spesso rimane protetto sono cambiate anche talmente tante cose che Michael non fa più palestra praticamente si infatti era quello che stavo dicendo ha cambiato tutto è proprio cambiato vita come ti stai trovando con il canale nuovo? ma mi sto divertendo moltissimo è tutta una roba diversa rispetto a prima cioè l'idea comunque di comunicare una passione completamente diversa ti dà la voglia di fare un sacco di cose nuove e poi di conoscere persone realtà completamente diverse vabbè io e te siamo sempre appassionati di motore lo sappiamo no? per cui perché non provare a fare condividere qualcosa da niente perché non comprare un 1290 come prima moto ma lui ce l'avrà sempre a morte con me per questa cosa non rimarrà mai guarda è una roba proprio impossibile da riuscire oltretutto 2.290 il primo e il secondo perché? sì ma io ti devo spoilerare tanti di quei mezzi che tu non hai idea il tuo commercialista è molto contento il mio commercialista piange sempre però ti dico soddisfazioni incredibili divertimento assicurato e poi vabbè la banca che ti chiama ma sei sicuro che questo bonifico l'hai fatto tu? sì sì vai tranquillo sì sì l'ho fatto io ti posso spoilerare in questo video che ho venduto il Subaru? davvero? poi te lo scrivi ti eri stufato di fare da benzinaio a benzinaio? da benzinaio a centottani a benzinaio a centottani peggio ancora ma posso chiederti una roba? dimmi ma c'è già sulla pasta termica? sì la pasta termica è già applicata che svolta però una roba me la ricordo ovvero che le ventole sulla base del posizionamento possono o buttare dentro o tirar fuori esattamente qual è la soluzione giusta? dimmelo tu per me devono dipende dal movimento delle altre ventole perché devono cercare di fare un flusso vabbè devi avere dell'aria che entra e dell'aria che esce certo io intendevo come capisci da dove entra e esce l'aria ah oddio da qua sicuramente entra spara in qua perché non lo so proprio ma io quanto sono invidioso del tuo monopattino da 70 km orari non ce l'ho più dai dai e io bastardo che volevo chiederti prestamelo eh ti avevo allora l'avevo chiamato per provarlo quando è arrivato ma ma quanto sono stronzo no ragazzi non ce l'ho più quello lì non ha senso non puoi usarlo per strada pericolosissimo 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 quello veramente era pericolosissimo cioè bello se vuoi usarlo per i cazzi tuoi in campagna praticamente o all'interno di un motorhome o qualcosa per sì ma comunque rimane pericoloso non è che diventa poco pericoloso perché lo usi da qualche altra parte ho capito ma finché ti fai male da solo cazzi tuoi la strada non ha senso no no il logico totale io l'ho venduto ragazzi davvero e tu quando vieni a provare il mio booster che si impenna sempre quando vuoi ecco allora l'alimentatore lo fissiamo qua e facciamo passare tutti i cavi dietro ok in questo caso non è modulare è un po' un peccato però non ci cambia tanto visto che dietro c'è un bel po' di spazio grazie Asus per farmi odiare da tutta mezza youtube tutta mezza da tutta youtube Italia però il punto è quanta differenza dovrei tanta ok il doppio ok cioè almeno adesso così a spanne no vabbè stai parlando della scheda video praticamente più potente al mondo c'è la 3090 ma è identica come performance l'abbiamo visto quando sono uscite che è praticamente una 3090 con meno RAM cioè davvero se uno vuole vederlo poi c'è una differenza veramente minima e per i professionisti in alcuni casi visto che sbloccano alcune cose con i driver c'è differenza ma è una 3090 con meno RAM per me che lo uso su google chrome aspetta aspetta c'era ancora pellicola ah si? si guarda qua sotto no ragazzi ah questa è tutta pellicolata si sicuro guarda rimuovi la prima dell'uso ok ce l'abbiamo fatta posizionamento qua si si lì va bene ok sei? si posso lasciarla? si ok nel caso dovesse interessarti in un futuro vuoi farlo puoi anche mettere la scheda video in verticale puoi togliere la scheda video usare un riser p6 express quindi una prolunga e mettere la scheda video con le ventole che si vedono dal case ah ok figo non vale la pena in questo momento aprire il monitor glielo lasciamo gustare a casa ma quello me lo faccio con calma esatto con calma così lo vedi qui abbiamo il suo fratello più grande 34 pollici però è 200 hertz questo ok possiamo partire? attaccata possiamo accenderlo e se siamo stati bravi dovrebbe accendersi se sei stato bravo no vabbè dai allora si è acceso le luci davanti sono accese per ora le luci frontali sono collegate con il controllerino suo mentre quelle del dissipatore sono attaccate direttamente alla scheda madre quindi vanno controllate tramite software ti prendi porta tutto quanto a casa ok e mi aspetti facciamo la configurazione e un video magari della postazione da me facciamo la nuova postazione 3.0 esatto e vediamo che cosa tiriamo fuori va bene da Blink e Mitch 4 anni dopo è tutto? ora abbiamo passato di cose e io devo ringraziare ovviamente Alvi e devo ringraziare tantissimo Asus per tutta questa questa tanta roba tanta roba non so cosa dire ovviamente trovate tutte le informazioni in descrizione i social di Mitch i miei eccetera e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao infine ci tengo a ricordarvi che noi abbiamo assemblato il pc perché sappiamo come fare ma nel caso qualcuno non si sentisse abbastanza sicuro può affidarci all'esperienza di Next trovate il link in descrizione e vi seguiranno per realizzare la configurazione migliore per voi vi ricordo che è disponibile Blink My PC il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile dove è possibile realizzare configurazioni personalizzate oppure scegliere tra quelle proposte in base al prezzo desiderato ovviamente non mancano le offerte in tempo reale e il mio merchandise trovate il link in descrizione